Ehi ragazzi come va? Io sono Fereniki e io sono Steph e qui si giochiamo a Roblo E finalmente siamo tornati su Pokémon Brick Bronze, non vedevo l'ora di tornare a giocarci Davvero? No guarda sono impazzita totalmente per questa mappa E' fantastica ovviamente poi la possiamo giocare solo mentre registriamo quindi non vedevo l'ora Ascoltami un attimo, c'è una signorina che ci ha rubato una collana ed è scappata nel bosco Possiamo andare a prendere la calcina e sedere? Assolutamente hai ragione perché si è comportata malissimo, non ci doveva rubare Il regalo che ci hanno fatto i nostri genitori prima di essere rapiti che poverini Non ha capito chi siamo secondo me Sì non ha capito che siamo gli allenatori più forti della regione di Roria Con tre Pokémon Roria, io ne ho quattro Roria Andiamo Ti batto, ne ho quattro Vedo uno che ne ha 161 Andiamo a vedere prima di tutto se nell'erba troviamo qualche Pokémon Perché ok che è importante riprendere la collana però Catturare i Pokémon Guarda un Nidoran Un Nidoran subito Mica male Quindi un po' di Pokémon diversi Eh sì Io ho trovato Spinarak Spinarak Oddio il nome dei Pokémon Hai problemi a dire i nomi dei Pokémon Sì Ce ne siamo accorti Devo cercare di non ammazzarlo con un colpo Perfetto Allora tu quante Pokémon hai però da parte? Oh cavolo Penso di averne molte Poké Vero? Non c'è Me ne sono dimenticata che noi le abbiamo comprate Non siamo andati a fare shopping Esatto in effetti Ne ho due Ne ho due contate Ok io ne ho tre Quindi ne uso una E poi ne ho solo un'altra Dovremmo andare a comprare L'abbiamo visto Facciamo retromarci un attimo Eh dire che è caso Sì 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 È troppo importante prendere i Pokémon No ma poi io so già Che se non andiamo a prenderle Poi sicuramente succede Che trovi qualche Pokémon epico Capito? E non lo puoi prendere Perché non le Pokémon Giustamente Allora questo cosettino Lo voglio chiamare Scarafagino Ok Ok Bellissimo Ok Livello 9 Ho imparato smoke screen Allora Si muova Venga qui Andiamo a comprare le Pokémon subito Tanto ci saranno Ma ne abbiamo soldi? Silenzio Allora mi stai mettendo in difficoltà oggi Ok Ma c'è il negozio? Non lo so No Allora Allora No 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 Questo qua è per curare Sei sicuro? Eh sì E se entro in questa casa Magari ci regalano delle Pokémon Non disturbare nelle case altrui Così? Ha delle Pokémon lei? Lascia in pazza Ce ne puoi regalare? No No Non ce ne regala Sta parlando dei tsunami Tornado Disastri Vabbè È una persona un po' triste Mi allontano Sì sì Mi mette un po' paura Quindi non abbiamo altre Pokémon E allora che facciamo? Inizio a fare subito la mia battaglia Non ti aspetto Quindi inizio Kakuna E lo faccio fuori Sì Bellino Kakuna Sì sì Lo farò fuori sicuramente Quindi mi dispiace Povero Kakuna Guarda In un colpo solo Un colpo solo Sei troppo brava Beh certo è super efficace Il fuoco qui Normale No no Sei tu Troppo brava Grazie Grazie per tutti questi complimenti Grazie Anche a me sui darlo Venga qua Le faccio vedere io Non si saluta così È maleducazione No ma poi noi abbiamo una certa fretta Perché giustamente dobbiamo recuperare la collana Lui ci ferma Vuole combattere Parlano quelli che si sono fermati Per catturare Pokémon E pure tornati indietro A cercare le Pokéball È parlato con tutte le persone Del villaggio Scusa Che succede? Non è un allenatore È selvattico No Sì Non ci credo Vedi per lui la sprecherei la mia Pokéball La mia ultima Pokéball Sai come ha fatto? Che succede? Pika pika Non c'è bisogno che mi rifai il verso Grazie Non c'è bisogno Allora Uffa Lo voglio anch'io Allora Adesso devo vedere dove l'hai trovato Mettermi anch'io lì e riuscire a trovarlo Esattamente davanti a quello che stai battendo adesso Ok Perfetto Perfetto Io non voglio Poi va bene È una bella cosa comunque questa Allora ci stiamo facendo un bel po' di soldi Dai Pikachu 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 Sto cercando di mettere Caterpie Ho messo Scarafaggino Perché io non voglio ammazzare Pikachu Scarafaggino Si chiama Scarafaggino Quindi allora Proviamo con un attacco Ma non ti vergogni di chiamare Scarafaggino il tuo Pokémon Me l'ha ucciso Pikachu Non si fa così eh Kakuna Kakuna Nah No non lo voglio Kakuna Non morire Ma l'hai ritrovato? No 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 Però stavo cercando Ah ok Ha ucciso il tuo Pokémon Ok Perché volevo usare altri per non rischiare la sua morte Infatti ho rischiato molto Però l'ha uccisi L'ho capito subito L'ha uccisi? Scarafaggino poverino Non si rimetterà mai più come una volta Non lo trova Pikachu Non tornerà capito Non tornerà più come una volta È solo per me Pikachu Questa tizia è quella che è scappata secondo te? Ah no l'ho vista È lì davanti Dopo che battiamo lei Possiamo andare Ok ok muoviamoci Scusa Muoviti che ci stai disturbando Noi dobbiamo riprendere la nostra collana Muoviti Scusa un po' male L'ho capito Nidoran femmina è troppo più bellina Carino La vorrei trovare Allora Ti spacco subito la faccia Cioè dici che è carino Poi gli dici che le spacchi la faccia Dobbiamo andare a prendere la collana Almeno fallo con eleganza È una signorina Devi dire scusa ma ti devo battere Perché ho una certa fretta Ma secondo me dobbiamo affrontare la tizia? Perché io non ho il Pokémon pronti a combattere Non ne ho idea Non ne ho idea Potrebbe essere un problema Te direi Ci manca solo che arrivo fino a lì E poi mi batte pure lei Se sei molto messo male Torniamo indietro all'ospedale Pokémon L'ho vista Non resisto Non riesco a Tienimi fermo Tienimi fermo Le spacco la faccia Oh mio Dio Calmati Non possiamo usare la violenza Bisogna fare le cose con calma Altrimenti qua succede un disastro Ci tengo a precisare che fanno schifo i tuoi capelli Così signorina No è fai schifo anche come sei vestita Perché sei davvero un maleducato incredibile Ok? Allora Si sta Ah ok dice Ho visto che mi hai catturato In effetti è colpa mia che sono andata in una strada chiusa Sì in effetti non è una buona idea amica mia E poi ti fermi pure Almeno scappa da un'altra parte Arrampica ti vedi Non sei molto intelligente Si sta pure giustificando Dicendo che questo è l'unico posto Dove nascondersi Perché c'è il ponte in costruzione Capito? È del team Traditrice Quindi dice che non ce la ridà perché appartiene al team Eclipse Che poi sono quelli che hanno rapito anche i nostri genitori Ok la dobbiamo battere giusto? Io non credo di poterla battere Io credo proprio di sì Allora nel caso sei tu che hai rovinato la tua famiglia La mia almeno sarà salva No vabbè che bello quel pokemon Che bello Puccina Non mi ricordo più però se è fuoco No forse è normale Di tipo normale non ricordo Fai tu un Ember Perché? Perché così vedo se è super efficace Ok sì sì Te l'ho detto che non era di tipo fuoco Comunque praticamente quando stavo catturando Pikachu Pikachu Mi ha paralizzato Quindi io ho sindacchio paralizzato No No Per quello sono in difficoltà Eh direi Sì ma tra l'altro che potevamo Oh mio dio che carino l'altro Lo devi vedere Panciam Che saremmo dovuti tornare all'ospedale Non ci sarebbe costato nulla Ma quella è una foglia o la sua linguetta? Forse è una foglia È bellissima in ogni caso Al nostro rivale capito Guarda non ci aiuta neanche fa Ah bravo Sei riuscito a riprendere la tua collana Cioè ma che vuoi Vattene siamo rivali Via 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 Sparisci guarda Sei totalmente inutile Anzi Dacci altre cinque pokeball e ti perdoniamo Esatto Giusto? Esatto Sono molto d'accordo Sono molto d'accordo Ok ci siamo qua Ti pokemon Ti devo far vedere una cosa Cosa? Dai smettila Smettila di farmi rosicare Allora Andiamo a battere l'altro allenatore che c'era rimasto Perché pagano bene Esatto E secondo me è essenziale avere molti molti soldi Soprattutto quando potremo comprare le pokeball Non sarà male essere già messi bene a livello di soldi Sai che mi è sembrato Ma non sono sicuro che il ponte fosse aggessato Anche a me Anche a me Ho visto la stessa cosa C'è con la coda dell'occhio Ehi Mentre tornavamo qua Al mio capello L'hai visto? Siete uguali Siete uguali Ma come si permette? Guarda adesso l'ho batto due volte di più Solo perché ti ho preso il capello Solo io posso avere il capello Oh no mi hanno addormentato Poverina Mi hanno addormentato ma perché? Adesso ti prendi a cazzotti mentre dormi Eh sì Mi do due schiaffi Io l'ho battuto facilmente Ci tengo a precisarlo Ma è riuscito ad addormentarmi Infatti non riesco a distruggerlo Allora Guarda L'assomiglia proprio al capello mio Sì ho notato Siete uguali Però mi ha dato 200 Quindi è perdonato Eh vedi che pagano bene Quello che ti sto dicendo È davvero utilissimo combatterli Tu dormi ancora? No mi sono appena svegliata Adesso gli do un ceffone Così gli faccio capire Chi è che comanda qui Chi è che comanda Perché questo gufetto guarda Si permette pure di far dormire il mio fennikin Ma assolutamente no Non si doveva proprio permettere Guarda ti ha pure rubato il capello Cioè dimmi te Dimmi te Elma paga bene Quindi è perdonato Sì bravo bravo Vediamo cosa ci dà Bravo ragazzo Rubi il capello Allora almeno ci paghi bene Scusa lo stavo insultando Qua ci ha dato Antidotto Vabbè serviranno ste cose In futuro sì Però adesso no Uffa Qua non c'è nulla Niente? No Possiamo andare dietro Allora andiamo indietro Sicuramente il ponte sarà aperto Perché Allora praticamente Il nostro rivale ci ha spiegato Anche delle palestre Capito? Quindi io penso Che ormai siamo vicini Ad affrontare la nostra prima palestra Io non sono pronto Come non sei pronto? No non me lo sento Non me lo sento Non me lo sento Fai schifo Posso? No vabbè dai Non ti voglio disturbare Vini 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 Sì è aperto il ponte È bello Guarda Guarda cosa ho visto La mia visuale da palco Bravissima Come hai fatto? Non lo so Non lo so Non sai cos'è? Perché mi aspettavo Che ci sarebbe stata qualcosa di particolare Quindi mi sono guardato intorno Prima di andare nel ponte Perché con Pokémon è sempre così Devi guardare negli angoli E capire se ci sono oggetti da prendere Infatti hai ragione Allora siamo alla Route 2 Hanno fatto un buon lavoro I signori che ci stanno lavorando Hanno già stato bene il ponte Mi piace Guarda che bello come l'hanno fatto Molto molto carino Allora questi sicuramente Sono tutte persone che si possono sfidare Sì Vediamo Secondo me sì No No? Per di più qua c'è una cosa strana Vedi? Ok Ah ok Te lo spiega praticamente questo ragazzo Cosa dice? Dice che con dei Pokémon Puoi usare delle mosse fuori dalla battaglia Infatti ci servirà sicuramente una mossa Nei Pokémon classici Le mosse se ti ricordi Le prendi sfidando Sì Le palestre Ti regalano appunto una mossa Quindi al momento qui Non possiamo andare Ma penso che ci potremo andare Dopo aver fatto la prima palestra Molto molto carino Un'altra cosa carinissima Sì 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 Un po' come i giochi di Pokémon Allora Jesse Vediamo un po' Vai Jesse Chi hai Jesse? Oh mio Dio che carino Oh mio Dio No quello mi piace troppo È troppo bellino È uno di quelli che mi piace tantissimo È troppo bellino Mi sta uccidendo da quanto è bellino Jesse facciamo una cosa Ti risparmio e mi lasci il tuo Pokémon È un affare che non puoi rifiutare Giusto? Assolutamente sì È bellissimo È bellissimo È bellissimo È troppo Speriamo di trovarlo Speriamo di trovarlo presto Perché è davvero carinissimo Lo so Ma prima ci servono Pokéball Allora Da questa parte Ok Ok Ce l'hai fatta? Sto finendo Sto finendo Ecco mi ho finito adesso Secondo me stiamo entrando in una nuova città Davvero? E guarda Che bello Andiamo Andiamo Nella nuova città Su 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 Chi è questo qua? Ma sei cattivissimo Sei un pugile Ma che ci fai qui? Fa il karate E ha gli occhiali da sole Proprio Più cattivi di così È impossibile Vabbè Andiamo Andiamo nella nuova città Arrivo 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 No Che cos'è? Un sentiero? Oh mio dio Oh mio dio Non ci posso credere Livello 14 Io ricordo 16 È forse diverso per questi Non lo so Non lo so Vai Aspetta Fammi finire la battaglia Che voglio vedere Oh mio dio Oh mio dio È bellissima l'animazione Oh mio dio Guarda Oh mio dio Aspetta che devo dare Uno schiaffo a questo Nel mentre Oh mio dio No Qui lava Qui lava È troppo carino Sembra una marmotta Che sputta fuoco però Adesso però mi evoluo pure Io Aspetta no Ho la nuova mossa Allora Sì La voglia La voglia assolutamente Dimentica Tile whip Che è inutile Che non mi piace mai Tile whip Sinceramente Ok vai Non leggo perché Il microfono Però ok Dovrei essere Scita Dopo che batti questo Dovrebbe partire anche La tua evoluzione Ti prego Dimmi che è 14 Anche la mia Stai zitta un attimo Che devo fare cose importanti Su togliti Togliti No No Io non mi evolvo Ma è possibile Perché Come Forse Non lo so Forse essendo generazioni diverse Abbiamo livelli diversi Di evoluzione Ci sono rimasta malissima Che cosa brutta Poverina Sì È stato terribile Guardala che bellino Che è Vieni qua Dove Qua No ma non essere triste Ci siamo già stati Siamo arrivati da lì E devo andare nell'angolo A piangere Ecco cosa sto facendo Perché sono tristissima No Non me ne vado più Ma se volete Sedici dai Ufa Chi è questo qua Un player Ciao Ma guarda la maglietta Hey Ciao La vedi Oddio sei carinissimo Che bellino il cappello che ha È tutto a tema Pokémon Wow Questa è l'evoluzione del mio Lo vedi Che è l'evoluzione di Fennekin E poi la maglietta di Charmene L'hai visto Sì Bellissimo Fantastico Andiamo Che poi è un consolino Me ne sono resa conto adesso Vedendo il link in chat È un consolino Però è scritto sull'hashtag Quindi non possiamo sapere E vabbè purtroppo sì Dobbiamo affrontare questo Perché poi c'è una Pokéball Lì a destra E finalmente Siamo arrivati Finalmente Al nuovo villaggio Finalmente Non è mai accesa dalla prima palestra Oh mio Dio Che brutto che è Che bellino No è troppo bellino È troppo bellino Comunque in tutto questo Tu hai imparato una nuova Mossa Ah giusto La devo provare Non mi sono soltanto evoluto E non ho imparato la mossa È un po' ingiusta Ma l'hai imparata prima tu eh No ma era qui cattacca Proviamo un flame charge Vediamo se fa un'animazione figa Proviamo 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 Questo guarda Non è fatti a te Invece che il mio Vediamo Che è successo? Non ha fatto danni no? No penso che non serve Ma è di fuoco scusami La riprovo Aspetta eh Ok Forse serve Qualcuno Non l'ho capita No fa danno E ti potenzia Ah ok ok Corri Arriva 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 Vieni non farti bloccare di nuovo Oh mio Dio Oh mio Dio No ragazzi C'è scherziamo Sylvent City È bellissima Ma no C'è la Allora Guarda la palestra Oddio 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 Sembra una discoteca Si sembra una discoteca È fantastica Vedi Ma qui cosa c'è? Cos'è questo? Vieni qua Hai già trovato cose segrete? Sì vieni Guarda vieni qua Ma ci passi? Sì Cos'è questo post? Non saprei Ascolta Non possiamo entrare Non abbiamo il permesso di entrare No non possiamo entrare Però vedi un posto segreto di sicuro Se non ci possiamo entrare Comunque questa è la città Dell'elettricità Hai visto? Perché c'è tutta la centrale elettrica Per quello trovavamo quel tipo di Pokémon Ecco perché infatti vedi È pieno Vieni Se vieni qui sopra Esatto Vedi tutti i pannelli dell'elettricità Tutti questi tralici Oh mio Dio Guarda lì sopra cosa c'è Guarda che ci sono Secondo me Ah vabbè quello è il passaggio Credo Oh mio Dio Non lo so Vieni a curarti Pokémon un attimo Sì Allora Perché sono messi male Ok perfetto Dopodiché Dovremo secondo me anche parlare in tutte le case qua Dovremmo Aspetta Vedere bene Che succede Quello a destra Senti un pochettino Prima di provare a fare la palestra Torniamo indietro Catturiamo un altro po' di Pokémon Dopodiché entriamo in palestra e ci proviamo Ok Ok così Catturiamo tutti i Pokémon che non potevamo prendere prima Ci aumentiamo tutta la squadra La facciamo più bella E a quel punto entriamo nella palestra Quindi prossimo episodio Attachiamo Ci prendiamo Pokémon E facciamo la palestra Assolutamente sì Proprio una figata incredibile Assolutamente sì Beh ragazzi Se vi piace così Se ci lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete un nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao